Si può boccar chi drentra? C'è nishou? Che so se guarda si sti satanici qui, si sti disegnacci maledetti Ciao amico di merda, vaffanculo, testa di cazzo Che era un messaggio subliminare quello Mo devo riendar la Oddio, vaffanculo, te ne dà a vista il cazzo Ok, la spada la saltiamo direttamente, la saltiamo tutta Va, fa, culo Esce di merda Gannia style Porca droga Gannia style Che cazzo è questo? Charlie Mattenson Union Contatta eh, vediamo eh 555-37-99 Pronto? Eh, guardi signora, ho delle notizie riguardanti suo figlio Charlie Mattenson Si Guardi, probabilmente è stato stuprato rivetutamente, violentato e poi sgozzato dallo Slenderman Si E' un omino senza faccia, quindi No, 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 suo figlio sta bene Sta bene, si Non abbiamo ritrovato il corpo ma siamo sicuri che sta bene Ora le nostre ricerche continueranno e non si preoccupi signora, non si preoccupi Si, le mie condoianze Buonasera Stiamo direttamente su Gioco Stronzo Fottutamente Perverso Nella testa Mario Sette più Te mettono un pala testa in giù Nudo Dai, 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 con calma Ragazzi preferisco prendermi il joystick della PS3 e darmelo sulle palle che gioca a sto gioco Non ce la faccio Non è possibile Mi sta prendendo un infarto Oh, porca miseria Che No Come diavolo si fa Come diavolo si fa Come diavolo si fa Cretino Capra Cazzo È psicaterico Secondo me è un attacco epilettico Ve lo dico Ragazzi mi stanno girando gli occhi Non ci sto cadendo più un cazzo Ecco Ti ho tagliato la gola con un bel coltello Come ti avevo promesso Perché sei solo un bimbo Caffè Kimbo Se può bucacchi il drento Guarda Un microscopio Anni 80 Che grascia Tutta sta grascia A chi drentro Allora Non fa culo C'è calcundici Allora Ci sono due giorni Oh Dex Tre colpi di lancio razzi E non è morto O non lo dobbiamo prendere in faccia Ma la bruta proprio C'è tipo Tutto in faccia Hai capito come? Ho capito Come 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 Sasha Gray Esatto Tutto in faccia Xbox Metti un porno con Sasha Gray Xbox Fammi un pippone Oh La Benarfa Te piace Piazzarlo dietro a A company Eh Datemi un pollo Dov'è il pollo Un pollo Un pollo Tiene mucha stinca Un pollo 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 Voglio farti un regalo Piccoli capri poi piangi Dexter fa tutto Chiama una mob Mentre stai cagando 23 24 Eccola che arriva 25 La guerra Ha più totale Mettiamo prima tutto al minimo E poi tutto al massimo Possiamo sparare la G-Raser Benornati amici Ora venderò Kebab per voi Allora Chi c'è qui Come vuole Salsa piccato Io ho fatto salsa yogurt Buono No 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 Non restituire soldi Mi dispiace Tu fregare me Kebab E io rubare te famiglia Allora Dove sei Valedetto E ruba Kebab Di merda Facendo le preghiere In arabo Ci sono riusciti No Salta Ce la faccio Dai Mi sento cari No Lo so io Il gioco Che è stronzo Perché non è possibile Che io non riesca A fare due cose Messe Ma che è? Rap senegalese Che cazzo è? Il vero rap Il vero rap Maicon Ancora È un eretto E quindi Corre sulla fascia Lavorare Cavalcare Tirare E segnare Non ha segnato Maicon C'è non ci credo Non ci credo Vai 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 a fanculo Vai a fanculo Cavallo Unicorno Alato Ragazzi Spero che il montaggio Vi sia piaciuto Fatemelo sapere Mettetevi un pollicione In su Io vi adoro 30.000 iscritti Che traguardo Ragazzi Veramente Grazie Grazie Infinita a tutti Per tutti Mi piace Che mi lasciate I commenti Che mi scrivete Qua sotto Veramente Grazie Non ci sono altre parole Vi ricordo Che se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale Di mettere un bel pollicione In su Che per me è sempre importante E anche poi Se volete Insomma Condividete Spammate il video Su facebook Ragazzi Vi ricordo Ma al solito Un commentino Perché ogni commento Io sono felice Vi abbraccio Li leggo tutti E cerco di rispondere A più persone possibili Grazie 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 30.000 Grazie 30.000 Abbraccioni Io vi saluto ragazzi E ci diciamo Gente